sonia bruganelli protagonista di ballando con le stelle nonostante i risultati in pista non siano eccezionali la produttrice tv affronterà un altro spareggio sabato prossimo insieme a carlo aloia dopo l'ultimo posto della scorsa puntata ma sono in retroscena dietro le quinte a far parlare di sé con infortuni liti con selvaggia lucarelli e tensioni con il compagno angelo madonia ma la novità che ha scatenato polemiche è stata la partecipazione del figlio davide bonolis ospite speciale dello show di milly carlucci le sue parole non sono piaciute al padre paolo che ha reagito duramente davide bonolis ha parlato di una delusione amorosa e della sofferenza che ha provato trovando conforto nella madre sonia dopo aver scelto di affiancarla ballando ha raccontato la sua storia di fragilità e coraggio di fronte a milioni di spettatori la reazione del padre paolo non è stata positiva ma sonia ha difeso il figlio e ha spiegato che paolo vuole proteggere la fragilità di davide nella puntata della vita indiretta sonia ha raccontato che paolo ha rimproverato davide per aver parlato della sua sofferenza in pubblico gli altri ospiti del programma hanno elogiato il coraggio di davide nel mostrare la propria vulnerabilità sonia ha difeso paolo spiegando che è un uomo di un'altra generazione e che cerca sempre di proteggere il figlio davide ha voluto condividere la sua storia e affrontare le sue fragilità suscitando reazioni